E' polemica a Carbonia sulla organizzazione della vaccinazione anti-influenzale al lab vaccinale della Grande Miniera di Serbariu. I consiglieri comunali di minoranza Matteo Sestu, Gianluca Lai, Sandro Mereu e Luca Pizzuto hanno diffuso una nota nella quale sottolineano che centinaia di persone anziane sono state lasciate all'aperto in balia della pioggia del vento e tanti hanno preferito andare via. Alla giornata di ieri ne seguiranno altre tre, sempre dedicate agli over 60, scaglionati in ordine alfabetico. Ci chiediamo, aggiungono i quattro consiglieri comunali, come sia stato possibile pensare di procedere in sole quattro giornate alla vaccinazione di un vaccino così vasto di popolazione. Ci chiediamo come sia stato possibile non prevedere un riparo e dei posti a sedere per chi era in attesa di ricevere il vaccino. Ci chiediamo ancora che cosa abbia impedito all'amministrazione della Regione Sardegna di stipulare un accordo con i medici di base per procedere alle vaccinazioni con maggiore serenità e tranquillità, così come è avvenuto negli anni passati. Lo spettacolo irrispettoso al quale abbiamo assistito ieri necessita, concludono Matteo Sestu, Gianluca Lai, Sandro Mereu e Luca Pizzuto, di una dura presa di posizione della nostra amministrazione comunale nei confronti dell'amministrazione sanitaria. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di intervenire per assicurare ai propri cittadini un servizio degno di questo nome.